Bene, siamo in compagnia con il dottore Paolo Adamo, funzionario del comune di Ricanicattia, oggi factotum, me lo lasci passare questa frase, factotum, perché sostituisce in certo modo diversi assessori, non tanto la dottoressa Parruccio, ma altri assessorati. La situazione di Ricanicattia la sta vivendo da qualche mese in questa parte in modo attivo. Che succede? Intanto prendo la battuta come una battuta un po' cattivella, però ci sta anche questo, uno che svolge una funzione pubblica e cerca di fare il suo dovere nel miglior modo possibile deve anche recepire ed assorbire le battute cattivelle. Io non sostituisco nessuno, c'è un gruppo di assessori che cerca di fare il meglio che può, in questo momento si stanno tutti andando a fare e credo che siano tutti da apprezzare, tutti da apprezzare e cercano di fare il tutto per fare in modo che ci sia un'amministrazione più consona possibile, più vicina possibile ai cittadini. Per quanto riguarda le mie funzioni, sto cercando di fare il meglio che sia possibile. È chiaro che ci sono tantissime difficoltà, ma davanti a queste difficoltà non bisogna mai fermarsi e soprattutto bisogna mettere al primo punto, al centro dell'attenzione, le problematiche che riguardano i bambini. Questo per noi ci sta molto, ma molto al cuore, al di là di tutto. Non che gli altri problemi siano meno importanti, però le nuove generazioni devono crescere e devono capire che sono attenzionate e che tutta l'attività amministrativa, burocratica e personale va verso il garantire una crescita serena, tranquilla, al di là di tutto. Dottor Adamo, un'ultima cosa. Canicati, cambierà in qualcosa? Parliamo di illuminazione, l'attenzione urbana, le scuole, il personale, gli uffici tecnici e quant'altro? Allora, Canicati credo che stia cambiando, anzi il cambiamento l'abbiamo iniziato, credo che siamo per molti aspetti a buon punto, molti settori li abbiamo curati e credo che si stiamo avviando in una condizione molto buona. Mi invita a nozze quando cominciamo a parlare dei rifiuti. Oggi, proprio oggi, ho avuto una riunione all'addetto dell'ambiente dalla quale è emerso, in modo chiaro, che Canicati è avanti un milione di chilometri rispetto agli altri. Certo c'è molto da fare, c'è da implementare, c'è da continuare, c'è da insistere, però rispetto alla media generale noi siamo molto, ma molto avanti. Oggi siamo arrivati ad una raccolta differenziata che ha oltrepassato il 20%, siamo arrivati all'obiettivo di diminuire di 4 tonnellate al giorno l'indifferenziato, cosa che non era mai successo e cosa che non succede negli altri comuni. Siamo arrivati a cambiare quasi tutto, a rivoluzionare totalmente la gestione e l'organizzazione. Certo ci vuole tempo per arrivare all'ottimale, strada ancora da fare ne abbiamo, però la strada è avviata. Per quanto riguarda l'illuminazione, l'illuminazione è un settore che abbiamo affrontato pure, abbiamo affrontato, peraltro, aderendo ad una convenzione con ZIP, convenzione con una ditta che per motivo ovvio non posso fare il nome, che purtroppo ci sta dando dei problemi. Pensavamo che di risolverli, ma invece ci sta dando dei problemi. Era previsto che dal primo febbraio doveva iniziare una nuova storia, dovevano cambiare le plafoniere, doveva cambiare la struttura. Purtroppo ci stanno dando dei problemi perché non si sono dimostrate una ditta, diciamo, a quella che è il livello dell'impegno che si dovevano assumere. Però ci non dobbiamo che noi aspetteremo che si mature il periodo adatto per poter disdire il contratto e quindi iniziare una nuova storia. Frattando, come dicevamo poco fa, anche in sede separata, stiamo iniziando un po' a controllare gli impianti, a sostituire qualche lampada, a migliorare le zone. Abbiamo già migliorato, dal punto di vista dell'illuminazione, la villa comunale, abbiamo migliorato la villa Pasolini, stiamo migliorando alcune cose. Però, diciamo, siamo sulla strada, è un lavoro avviato.